Bene amici, oggi proviamo il Poco X3 Pro, eccolo qua, ha fatto tanto 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 parlare di sé perché è un telefono che ha dentro un processore della serie 8, lo Snapdragon 860 e costa meno di 200€ sì, 199€ al lancio fino al 30 di marzo, poi salirà un pochino ma noi prendiamo questo come prezzo di riferimento quindi scheda tecnica che parrebbe al top, un raccomporto a qualità prezzo incredibile allora perché nella copertina non avete letto Best Buy? perché è un telefono squilibrato, perché poi quando lo vai a usare lo accendi, ti accorgi che il display è veramente un po' così e poi vai a fare le foto e ti rendi conto che la grandangolare al buio fa schifo le foto normali comunque vanno abbastanza bene ma tornano, lo fanno tornare con i piedi sulla terra e poi apri CPU-Z che ti dice che questo processore 860 nient'altro non è che un 855 Plus di un paio di anni fa probabilmente c'è la crisi di processori, Qualcomm non riesce a stare dietro alla produzione ha ripreso i vecchi 855, magari li ha overclockati un po', insomma gli ha fatto un piccolo refresh ma sostanzialmente è un processo produttivo a 7 nanometri, quello che accompagna appunto questo processore e non è efficientissimo, proprio per questo la batteria deve essere grande, 5.170 mAh questo lo porta a essere oltre che spesso, oltre 9,4 mm, anche veramente pesante insomma, prestazioni sì, ma sempre un po' mediate da un software non proprio ottimizzato display un po' così, insomma, squilibrato andiamo a scoprirlo insieme, anche se poi in realtà poi il prezzo lo riequilibria però c'è un ma e partiamo dalla confezione come al solito attenzione ci sono dentro gli adesivi se una volta faceva figo mettere la mela di fianco alla targa della propria macchina adesso fa figo mettere l'adesivo poco, scherzi a parte, ma io ne ho viste tante di mele dietro alle macchine coverini silicone, bella spessa, bella pesante, bella robusta è tutto bello robusto questo telefono e poi abbiamo il caricabatterie da 33 Watt e il cavo dati in confezione, caricabatterie da 33 Watt che carica la batteria da 25,8 Watt ora in un'ora 100%, 50% 25 minuti sporge un pochino la cam ma è simmetrica a me non dispiace affatto back cover in plastica, frame in plastica quindi più resistenza, più leggerezza anche qua veramente siamo davanti a un telefono molto pesante le cam dietro 48 megapixel principale 8 lagrandangolare a 119 gradi e poi le solite inutili 2 più 2 bokeh e macro e il flash sensore in pronta digitale messo qua laterale fa anche da pulsanti accensione e spegnimento ovviamente non si può mettere sotto il display perché il display è un IPS e qua ci sono i pulsanti per il volume infrarossi, secondo microfono, slot per mettere due sim oppure l'espansione di memoria con una sim e qua sotto tipo C non esce il video ma abbiamo il jack per le cuffie e l'audio che attenzione è stereo ma attenzione a un'altra cosa perché ovviamente non c'è un always on display ma là dietro alla griglietta al tuo palazzo superiore c'è un fantastico led di notifica desapareti in Sidos praticamente da tutti i telefoni che sto provando ultimamente entriamo nelle impostazioni, vi faccio vedere subito le info di sistema MIUI 12.4 con Android 11 patch di marzo GPS affidabile, Wi-Fi è dual band c'è l'NFC quindi ok anche a Google Pay e il Bluetooth è 5.0 ma vi parlo subito della batteria perché vi dicevo prima 5.160 mAh ora vado negli screenshot ho fatto questo screenshot apposto per farvi vedere come una cosa che non mi piace nella ROM quando scaricate applicazioni vi può vacucare anche un po' di Wistab bisogna poi smanettare nei settaggi per togliere è una cosa che mi dà sempre fastidio quando i produttori, poco in questo caso, fa accordi per buttarvi della DV per farvi scaricare applicazioni sui vostri telefoni vabbè comunque tant'è Dottor Jekyll e Mr. Hyde vi dicevo perché guardate questa è la giornata tipo consumo tanto perché l'ho usato poi non l'ho usato poi l'ho usato poi non l'ho usato poi l'ho usato poi non l'ho usato poi magari sono uscito in LTE perché è 4G ovviamente poi l'ho usato un po' in Wi-Fi poi a casa poi la sera utilizzo divano insomma la curva è molto variabile quindi un telefono che può arrivare via sera con lo 0% così come può arrivare via sera al 50% in base al vostro utilizzo mio stress 4 ore e 29 minuti sono arrivato con il 24% già siamo giornata stress normalizzata io faccio circa un 20% però c'è da dire che quando inizia a laggare vedete che non è che l'ho usato in maniera particolarmente intensa durante queste 4 ore quando inizia a scaldare il processore va un po' in thermal trotting sofferenze quindi inizia un po' a laggare ma vi parlo del display che non mi ha fatto impazzire perché prima di tutto è poco luminoso adesso che iniziano ad esserci le giornate di sole ecco quando il sole è veramente potente questo display si fa un po' fatica a vedere sotto luce il sole e poi e poi ahimè vediamo se è già in full HD no? 480 lo mettiamo alla risoluzione maxima eccolo qua abbascio un po' perché comunque l'audio è buono guardate se ve lo inclino quanto diventa grigino questi qua sono neri e guardate ma diciamo che è sempre tendenzialmente un po' slavatino i colori non si possono trarre se non su due posizioni quindi sia i colori sia la luminosità massima non mi hanno fatto impazzire però c'è da dire che Netflix viene riconosciuto tranquillamente e se vado qua nelle impostazioni impostazioni up le specifiche di riproduzione sono massime vedete full HD con Widevine L.1 quindi da quel punto di vista nulla da dire l'altra cosa da dire invece che adesso per fare questo video ho messo la luminosità al massimo se io la lascio in automatica e la abbasso un pochino oltre a diventare veramente ancora meno luminoso è un telefono che è pigro quando andiamo da un ambiente luminoso o poco luminoso o meglio il contrario da un poco luminoso o luminoso ad alzare la luminosità al massimo quindi un sensore che si capisce ma ci mette purtroppo un pochino 6,60 pollici di diagonale tra l'altro è un display che è anche a 120 Hz però pur essendo a 120 Hz non ha mai quella fluidità che io ho trovato vedete adesso è attivato 120 Hz su altri telefoni sia nelle impostazioni ma soprattutto quando si vanno a utilizzare le applicazioni che laggano un filino non nel tempo di caricamento perché con questo processore voglio dire il tempo di caricamento è comunque buono e faccio anche una storia a Instagram e ah attenzione facciamo in diretto una cosa perché non sono andato a vedere come avete giudicato le storie di questo telefono ecco qua quindi facciamo così facciamo così ho sbagliato dobbiamo fare così e 2623 voti per il male 1275 voti per il bene quindi 67% male vabbè qua è colpa anche di Instagram però su questo telefono e su altri Xiaomi mi è capitato anche su altri telefoni ma su queste due marche più di altri quando faccio una storia e ve lo faccio vedere subito che magari dura più di 15 secondi quindi va a finire nel secondo video va a sfociare nel secondo video il primo video me lo pubblica sempre il secondo video non me lo pubblica ma la cosa peggiore è che non me lo fa neanche salvare quindi l'utilizzo di Instagram delle storie diventa abbastanza frustrante ripeto colpa molto probabilmente di Instagram però devo dire che questo discorso di non farmi salvare i video vedete mi dà errore mi capita solamente su alcuni Xiaomi e su questo poco offerte.club ok twitter ok vedete muoversi tra le applicazioni devo dire che è leggiadro e si muove si muove devo dire bene proviamo a scrivere un commento come erano i commenti ah perché stavo giustamente controllando cosa ne pensavate delle foto di questo telefono perché le avevo appena pubblicate dove sono boh non lo so non ne trovo più chi se ne frega ma scriviamo qualcosa perché l'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è la vibrazione che è un po' zanzarosetta non tra le peggiori che io abbia mai provato perché non è gommosa non è mollosa ma è un po' così cos'ha si perde un pochino quando lo mettiamo in vibrazione qualche chiamata perché la vibrazione è appunto un po' così il drawer non ha la possibilità di avere tutte le applicazioni sulle varie schermate ma bisogna per forza tenere il cassetto delle applicazioni questo è il launcher di poco perché è vero che la MIUI è la MIUI ma il launcher appunto è personalizzato da poco però c'è da dire una cosa che ci sono i temi online e devo dire che ce ne sono anche parecchi e ce n'è qualcuno anche che devo dire essere abbastanza carino ovviamente le gesture ovviamente i doppi account su praticamente tutte le applicazioni non sto a perdermi troppo perché le diciamo le opzioni e i menu sono quelli della MIUI che abbiamo già conosciuto e la conosciamo molto bene torniamo indietro e parlo di parte telefonica chiamo subito il 190 ho fatto parecchie telefonate con questo con questo smartphone e la cosa che mi è piaciuta è che il mio voce è stereo quindi anche quello piazzate lì riuscite a sentire bene l'interlocutore sentite e riuscite anche a parlare perché si sentono bene e prendono bene i microfoni la rischiazione è ok l'audio dalla capsula auricolare devo dire in media quindi da questo punto di vista nessun problema real racing avendo le non l'ho preso tac avendo le ufs 3.1 me lo sarei aspettato un filo più veloce a caricare rispetto agli circa 11 secondi che ho cronometrato ovviamente c'è la modalità game di tutte le rom MIUI ma poi si gioca bene nessun problema non lagga non frizza anche giochi abbastanza pesanti si riescono a giocare tranquillamente unica cosa ripeto tende un pochino a scaldichiare quando tende a scaldichiare poi tende a laggare un filino di più fotocamera modalità pro e abbiamo la possibilità di cambiare le lente esposizione iso la velocità di scatto da un 4 millesimo fino a un trentesimo f eccetera 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 nei video vi dico subito che se li girate a 30 frame per secondo allora se li girate a 60 frame per secondo non c'è la possibilità di passare tra le cam mentre se li girate a 30 non lo avete lo stesso perché guardate se iniziate a girare a uno per non va indietro ma potete iniziare a girare con la grandangolare che nell'altra notazione non è supportata quando zoomate zooma sempre la grandangolare e va a sgranare parecchio stoppo la registrazione per quanto riguarda poi le foto sempre in tecnologia artificiale c'è google lens queste sono le opzioni di impostazione ovviamente effetto bokeh in alto ci sono tutte le in altro scusate ci sono tutte le funzionalità che abbiamo imparato a apprezzare anche nella MIUI oltre al fatto di poter scattare la foto a 48 megapixel la foto notte la possibilità di fare vlog ovvero quelle piccole clippettine noi il telefono ci dirà di fare dei video che poi unirà automaticamente e c'è anche la possibilità di fare il doppio video vedete quello con la cam posteriore e quello con la cam anteriore anche con la possibilità di metterlo in finestra questa è una cosa che mi piace particolarmente ma vi faccio vedere come vengono queste foto e questi video andiamo qua partiamo da qua in fondo grande orgoglio ma no ragazzi ancora più orgoglioso 58 e mezzo sono a meno 5 arriverà a riassunto presto della mia esperienza ma foto con tanta luce devo dire bene sia con la normale sia zoomando fino altre per interpola bene ma anche con la grandangolare vedete nessun problema anche qua grandangolare normale ecco quando si va a zoomare così a 10x invece si va a sgranare parecchio l'immagine e poi vi faccio vedere cam anteriore abbastanza bene 20 megapixel cam normale anzi la grandangolare questa è la normale e qua siamo a 4x non preoccupatevi lei ha 22 anni lei non lo so sono dei tiktoker ho fatto un evento Samsung con loro non pensate assolutamente male ecco ve lo faccio vedere perché il mio primo tiktok è inguardabile mamma mia no lasciamo perdere dai continuiamo a guardare le fotografie che forse è meglio anzi prima un pezzettino di video dove vi racconto subito che la messa a fuoco è un po' lenta fa fatica quando passiamo da un soggetto molto vicino a uno lontano mi piace il fatto che sia abbastanza morbida ma ci mette veramente tanto stabilizzazione così cos'ha l'audio invece è ok invece di notte purtroppo questa è una foto fatta con la grandangolare al buio ma c'era anche abbastanza luce dei lampioni giudicatela voi con la cam normale sicuramente meglio ma sempre abbastanza malino anche qua cam normale abbastanza diciamo dai senza infame senza lode cam grandangolare invece no 58 e 1 stamattina è grande grande orgoglio poi tra l'altro non mi sento flaccido perché sto nel frattempo facendo sport quindi non è un dimagrimento fine a se stesso mi dimenticavo di far vedere l'effetto bokeh ragazzi cioè questo è super green screen ha fatto veramente un super taglio cioè mi ha riconosciuto ma molto molto fintone sembra i vecchi fotomontaggi quando dovete richiedere il riscatto alle persone che tagliavate con la forbice la foto e la appiccicavate a uno sfondo e poi per chi dice che a Milano non ci sono gli scogliattoli guardate zoom 4x1 scogliattolo sotto una macchina abbandonata grande grande è stato veramente bello incontrarlo quindi foto diciamo che si torna allora ci sono i telefoni che la 199 le fanno secondo me un po' meglio soprattutto grandangolari però vabbè ci stanno nell'uso di tutti i giorni voglio dire ormai ci stanno tutti i telefoni audio quindi vi faccio subito ascoltare Spotify tra l'altro avete visto c'è anche la radio FM alziamo un po' la mia compilation e devo dire buono l'audio stereo perché è buona la scena stereofonica sotto un pochino più presenti bassi però voglio dire si sente bene anche Jack per le cuffie il DAC integrato è abbastanza buono l'unica cosa che vibra un po' dietro quando si ascolta la musica ma non dà assolutamente fastidio penso di avervi detto praticamente tutto 199 euro fino al 33 poi 250 249 l'8256 poi 299 ripeto non so sinceramente avesse 199 euro forse prenderei altro sicuramente la scheda tecnica è in vita ma è sbilanciato ok la potenza avete visto gira bene però poi è sempre un po' micro laggoso ok batteria grande anche se è 120 hertz però pesa e scaldicchia e tutte spec a discapito un po' di display e cam perché secondo me hanno speso tutto per queste spec queste cose e poi hanno risparmiato ovviamente in altro nella cam soprattutto grandangolare intendiamoci nessun problema di utilizzo quotidiano per esempio il gps ha preso subito bene ha la bussola rispetto ad altri telefoni a questo prezzo che magari non hanno la bussola però preferisco telefoni che fanno dell'equilibrio una carta che secondo me è sempre vincente invece spero arrivi presto l'f7 lì sì che c'è aria di best buy qua no un saluto da andrea galeazzi punto com che c'è un po' di